Buongiorno Davido, allora nella prima notizia di oggi parliamo di noi, parliamo dell'Italia, parliamo del governo italiano e di un'iniziativa del governo italiano volta al miglioramento dell'alfabetizzazione digitale dei cittadini italiani che è messa abbastanza male a quanto si sa dai dati, siamo sotto al 50% percentuale della popolazione con competenze digitali e quindi il governo ha ben pensato di investire parte dei fondi del PNRR per appunto andare a sopperire a questa mancanza e quindi leggo dal sito del Dipartimento per la Trasformazione Digitale che viene istituita, viene creata questa rete dei punti di facilitazione digitale. Leggo, grazie al PNRR saranno 3.000 i presidi digitale facile per accrescere le competenze dell'inclusione digitale di oltre 2 milioni di cittadini entro il 2026 e cosa sarebbe questa rete dei punti di facilitazione digitale? Sono dei, non lo so, dei sportelli, credo, insomma con attività di formazione e di aiuto e di affiancamento a quei cittadini che hanno bisogno appunto di avere qualcuno che gli aiuti a eseguire delle operazioni su internet con le app, per esempio si fa riferimento a app Io oppure Pago.pia o l'anagrafe nazionale della popolazione residente, il fascicolo sanitario elettronico, insomma un supporto su questi servizi ma anche su altri come la dichiarazione di erediti oppure l'abbonamento al trasporto pubblico locale, insomma del pairing con chi non è in grado di affrontare questo tipo di servizi, peraltro mi permetto di dire che magari se tante persone non sono in grado di usare questi servizi forse potrebbero essere disegnati in modo da facilitare la dozione, però insomma questa è una mia cosa. Comunque chiude l'articolo, leggo iniziativa prevede attività finalizzate a raggiungere il livello base di competenze digitali nella popolazione richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva come definito dal modello europeo digcomp, diciamo abbastanza ambizioso, sono aiuti per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione però la finalità pare che sia il raggiungimento di livello base di competenze digitali e insomma il progetto costa, comunque il valore totale dell'intervento è di 135 milioni di euro che prevede 3000 punti di facilitazione digitale sul territorio in 21 regioni e province autonome con appunto l'obiettivo dichiarato di accrescere le competenze digitali per l'uso autonomo consapevole delle nuove tecnologie. La cosa che mi fa, che non capisco, è come possa essere raggiunto l'obiettivo di accrescere la consapevolezza nell'uso delle nuove tecnologie digitali se in realtà il piano operativo di questi punti è l'affiancamento per accedere i servizi della PIA, l'app Io e il fascicolo sanitario, quando tu hai un obiettivo così puntuale e paghi probabilmente o comunque ti rivolgi al terzo settore o comunque hai delle persone che saranno disponibili per aiutare gli altri cittadini a raggiungere questi obiettivi molto specifici e puntuali e non capisco quindi come possa essere raggiunto anche l'obiettivo di contestualmente aumentare la consapevolezza che è un obiettivo molto più ambizioso, dovrebbe essere probabilmente molto più organico nel paese, io credo di aver rotto le palle abbastanza a lungo con la questione della formazione e della divulgazione della cultura digitale, della consapevolezza, dell'alfabetizzazione che però dovrebbe avvenire a mio avviso in maniera molto più organica alla comunicazione in Italia, sulle televisioni, sui giornali, cioè dovrebbe essere un qualcosa di più nella vita comune di tutti i giorni, come si fa con altre materie, come si fa con la politica, come si fa con la medicina, cioè con altre cose vitali dovrebbe essere tanto più spinto il digitale, internet e i servizi web perché appunto sono talmente parte della vita quotidiana di tutti che affidarsi a un semplice affiancatore che ti spiega come usare le app mi pare un po' poco. A parte che i fondi stanziati sono veramente pochi, si parla di 135 milioni di euro, quindi sono veramente pochi fondi e non si capisce poi benissimo, immagino che siano punti istituiti nei quartieri, nei comuni, degli sportelli nei comuni, però insomma mi pare, leggerla così mi pare poca cosa e non ne capisco in realtà molto l'utilità a livello globale, però magari qualcuno mi saprà invece dire che è una cosa molto utile, molto interessante e basta così, volevo rendervi edotti di questa notizia. E passerei a parlare di un outage che è occorso ieri a AWS in Amazon nella region americana di US East 1, US East 1, che è una delle regioni più importanti in realtà e trafficate del servizio cloud di Amazon, appunto AWS ospita migliaia di siti, applicazioni, API eccetera eccetera. Insomma ieri sera, queste sono le issue riportate appunto sul service health di AWS, intorno alle 21 ore italiana questa region ha iniziato a presentare dei problemi che hanno causato il malfunzionamento o l'interruzione totale dei molti servizi online. Tra questi ci sono stati segnalati in questo articolo per esempio su The Verge, sull'outage, si segnala che hanno cessato temporaneamente la propria operatività i servizi di delivery tipo di McDonald's, di Taco Bell, e insomma difficoltà nel gestire gli ordini e le consegne. Altri utenti segnalano malfunzionamenti ad app di streaming come Netflix o come Spotify e ad servizi di Amazon stessa come Prime Video, come Alexa e come Ring. Io, per prendere il mio piccolo, segnalo che ieri sera alle 21 non potevo guardare la finale NBA gara 5 perché non funzionava il login, non lo so ma immagino che potesse essere correlato a questo problema. Poi verso le 11 è stato risolto. Insomma la causa di questo outage è stata identificata da Amazon stessa come problema con un sottosistema responsabile per la gestione delle capacità per AWS Lambda, lo segnalano qua nel Service Health. E questo ha causato errori direttamente per i clienti inclusi tramite API Gateway e indirettamente attraverso l'uso di altri servizi AWS. E poi i clienti potrebbero aver riscoltato problemi di autenticazione e di accesso usando la AWS Console oppure nell'autenticazione tramite Cognito o IAM STS. E infatti l'app NBA aveva proprio un errore al login. E insomma se non lo sapeste AWS Lambda è un servizio serverless appunto che consente di eseguire codice senza gestire l'infrastruttura, senza gestire i server. E la gestione delle capacità per Lambda si occupa di allocare le risorse necessarie per eseguire le funzioni Lambda in base appunto alla domanda. E se questo sottosistema non funziona correttamente può portare appunto a questi errori, ritardi nell'esecuzione oppure di tutti i servizi che ne dipendono. E Amazon ha impiegato circa 5 ore per risolvere questo problema e ripristinare il normale funzionamento dei servizi. Durante questo tempo molti utenti hanno espresso frustrazione e stupore sottolineando poi la dipendenza che abbiamo dal cloud di Amazon e quindi un po' la fragilità della nostra infrastruttura digitale. Infatti negli anni si sono susseguiti a questo tipo di lamentele. C'è un articolo, un bel articolo di Diverge sul mappatura dell'impero di Amazon. Tutti i servizi web che fanno affidamento sui servizi cloud di AWS e appunto si va a vedere che è una larga fetta di internet. E questo è un po' un problema che si va a segnalare in questi anni, cioè la dipendenza che abbiamo da pochi grandi fornitori. Ne abbiamo parlato anche quando c'è stato l'outage di Cloudflare. Grossa parte del web è andata giù perché dipendeva dai servizi di Cloudflare. E questa centralizzazione di servizi in pochi vendor rende tutto il sistema molto più fragile. Ed è parte dei cicli che siamo stati ormai abituati a vedere sul web. Il web era partito come qualcosa di estremamente decentralizzato con tanti piccoli siti hostati da server privati. Poi si sono così raggruppati e si sono creati dei conglomerati. C'è stata la prima fase dei conglomerati su web con America Online, Yahoo, eccetera, eccetera. E lì si è appunto assistito a questa aggregazione di servizi in megacorporazioni. Poi dopo è arrivata un'altra fase di decentralizzazione quando sono arrivati i social media. Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Sono arrivati questi servizi che hanno portato a una decentralizzazione, a una creazione di vari piccoli data center. E con l'avvento del cloud molti di questi servizi sono poi migrati sul cloud. Per esempio ci trovano gli articoli sulle migrazioni al cloud, per esempio di Twitter, che tra l'altro ultimamente ha dei problemini con il cloud perché non ha pagato le bollette a Google Cloud, ma questa è un'altra storia. E comunque si è quindi assistito a una nuova centralizzazione dei server, e quindi una dipendenza da pochi attori. E questo è un problema di cui si dibatte. E vedremo un po' dove si andrà a finire, se si arriverà a un altro ulteriore ciclo di decentralizzazione. E per chiudere facciamo il quarto episodio del drama, del Reddit drama. E andiamo a vedere cosa sta avvenendo. Sta avvenendo quello che si sapeva, cioè dei tanti subreddit che hanno aderito allo sciopero, e sono andati offline. C'è un sito che li raccoglie un po' tutti, si chiama RedDark. Su questo sito appunto trovate un po' quali sono i subreddit che sono dark, cioè che sono private, o che hanno delle restrizioni comunque. E c'è anche un canale Twitch, proprio di RedDark, si chiama RedDark underscore 247, che li mette in tempo reale, cioè fa vedere in tempo reale quali sono i subreddit che stanno andando private, o quelli che stanno tornando public. avevano ipotizzato 8.829 siti, adesso in realtà stanno diminuendo. Stanno diminuendo come ha pronosticato il CEO di Reddit, Steve Huffman, che in un memo, in un memo spedito ai propri dipendenti ieri, è stato intercettato sempre da The Verge, ha detto proprio questo, di non preoccuparsi perché la cosa passerà. Vi leggo tradotti un paio di passaggi, dice che c'è molto rumore, naturalmente, tra i momenti più rumorosi che abbiamo visto. Sappiate che i nostri team ci stanno lavorando, e come tutti i casini di Reddit, anche questo passerà. Le cose importanti che possiamo fare ora sono rimanere concentrati, adattarci alle sfide e andare avanti. Dobbiamo assolutamente committarci su quello che abbiamo detto che avremmo fatto. L'unica soluzione a lungo termine è migliorare il nostro prodotto, e nel breve termine abbiamo alcuni lanci critici di strumenti per i moderatori che dobbiamo centrare. E poi in chiusura dice, mi dispiace dirlo, ma per favore fate attenzione a indossare l'abbigliamento di Reddit, quindi con i loghi di Reddit in pubblico, perché ci sono alcune persone che sono davvero arrabbiate, e non vogliamo che siate l'oggetto delle loro frustrazioni. E questo è condivisibile, non vorremmo mai che avvenissero episodi brutti, rivolti a dipendenti di Reddit, che in realtà poi non c'entrano neanche niente. E questo è quanto, quindi è abbastanza convinto che la cosa passerà, e se si guarda Red Dark appunto si vede come molti dei subreddit stanno tornando public, appunto, stanno tornando pubblici, quindi la cosa potrebbe in realtà andare, come dice, e sgonfiarsi. Vi segnalo giusto in chiusura una bella intervista al creatore di Apollo, che è Christian Selig, che spiega, sempre su The Verge, che spiega che sta coprendo, The Verge sta coprendo davvero bene questa vicenda, come aveva coperto anche Twitter, che è passata in acque simili, e c'è un'intervista appunto dove spiega varie cose sulla sua comunicazione con Reddit, con il CEO, insomma con gli admin di Reddit, e soprattutto dove fanno un po' di conti. fanno i conti in cui appunto Selig spiega che anche ipotizzando di chiedere ai propri utenti un pagamento dei costi, per coprire i costi dell'API reedit, comunque la cosa non potrebbe funzionare in così breve tempo, a troppo poco tempo per fare dei cambiamenti sia strutturali che anche di comunicazione con i propri utenti, in cui ricordiamo una parte è già pagante, una base degli utenti di Apollo è già pagante per accedere ad alcune feature premium, ecco gestire questa transizione a un costo superiore, tier superiore, sia a livello infrastrutturale che a livello proprio di comunicazione con gli utenti non è possibile in così poco tempo, e poi non si può basare il business su un fornitore diciamo di servizi che è così instabile, perché lui aveva ricevuto rassicurazioni a gennaio che le cose sarebbero andate, sarebbero rimaste stabili, e invece poi nell'arco di pochi mesi hanno avuto questa accelerazione, questo tipo di cambiamento, questo è un po' il succo dell'intervista che comunque se siete interessati vi invito a recuperare perché è molto interessante, come vi invito anche a recuperare un articolo apparso ieri sulla Electronic Frontier Foundation, EFF, che si chiama What Reddit Got Wrong, che spiega appunto un po' secondo l'autore di questo editoriale, diciamo che è Rory Meir, e spiega un po' che cos'è secondo lui il fattore scatenante del problema, dei problemi di Reddit, cioè appunto il rapporto con la sua base di utenti, che è poi il valore, la cosa più importante che ha un social media, che ha Reddit in questo caso, che naturalmente ha avuto dei bei momenti, cioè Reddit ha immaginato un mondo, un social media dove gli utenti, gli stessi utenti, sono anche moderatori della piattaforma, perché naturalmente assumere moderatori per moderare i contenuti, che è una feature fondamentale dei social network di oggi, è una cosa molto dispendiosa e soprattutto che non scala, perché all'aumentare degli utenti tu dovresti aumentare linearmente anche i moderatori, questa cosa non scala, quindi facendo fare la moderazione ai subreddit stessi, agli autori e ai moderatori di subreddit stessi, è così che viene distribuita il carico della moderazione, soprattutto non vengono pagati per fare questo lavoro, e quindi Reddit ha pensato un bel modello, no? sia a livello proprio comunitario che a livello di business, però poi adesso ha sbagliato nel proprio andare a cercare di spremere i propri utenti al massimo per trarre profitto, un percorso che viene definita encitification, c'è un bel articolo che viene citato, encitification, se non l'avete letto vi invito a leggere anche questo, si parlava della encitification di TikTok, che sono queste tre fasi, cioè dove c'è le platform, le social media platform che sono buone, sono carine e buone con i propri utenti, poi nella seconda fase abusano dei propri utenti per fare il bene degli utenti business e invece poi nella terza fase abuseranno o abusano come sta succedendo in alcune situazioni degli utenti business stessi per portare valore a loro stessi e questo è il momento finale in cui moriranno, quindi in Reddit siamo nella seconda fase in cui gli utenti stanno venendo spremuti per appunto tirar fuori dei soldi e fare il bene degli investitori e del business. Quindi, anche per oggi l'abbiamo fatta abbastanza lunga e spero che vi sia piaciuta, vi ricordo brevemente che questo fine settimana ci sono due eventi in realtà abbastanza interessanti, in uno ci sarò io e venerdì e sabato sono al WMF We Make Future a Rimini in Fiera e quindi se siete lì in zona o se siete nell'evento direttamente mi potrete beccare quei due giorni, la seconda giornata quindi il sabato sarò nella sala coding a fare da moderatore per tutto il giorno ma ho anche un piccolo talk quindi in realtà potremmo potremmo vederci chiacchierare un po' però vi ricordo anche che venerdì questo venerdì a Milano c'è il KCD Kubernetes Community Days quindi se siete interessati al cloud al mondo Kubernetes eccetera a Milano di persona o in person non so come dirlo come tradurlo c'è questo evento fighissimo vi consiglio di andare a vedere sulla pagina LinkedIn o su Twitter insomma il Kubernetes Community Days Italy con la pizza pizza nel logo naturalmente ma pizza magari anche nel spuntini però insomma molto interessante quindi vi invito a darci un'occhiata e magari a partecipare quindi grazie ancora per avermi seguito e noi credo che ci vediamo non domani neanche dopo domani probabilmente la settimana prossima perché adesso parte questo fine settimana di eventi che mi troverà impegnato quindi grazie mille e ciao grazie mille